Il mare per me è sempre stata una fonte di ispirazione, anche perché essendo un subacqueo quando si scende al mare si scende per rilassarti, conosci un mondo dove sei ospite e da queste esperienze ti dà sempre modo di pensare nuovi piatti, nuovi accostamenti, un senso di libertà. La mia cucina è una cucina semplice dove cerco di valorizzare al massimo la materia prima, che sia un pescato del giorno, un pesce azzurro, un prodotto della campagna, c'è sempre un ricordo ed è per questo che quando creo un piatto cerco di dare un'emozione al cliente. Questa serata sarà sicuramente una serata di divertimento nella quale con Manuele Cattaruzza proporremo un menù di mare per far fare un'esperienza ai nostri ospiti. Vi aspetto venerdì 5 agosto al ristorante Ziguiù dell'hotel Villa Marina Capri. Colgo anche l'occasione per ringraziare la proprietà, la signora Francesca Guarino, e lo chef Manuele Cattaruzza per l'invito a questa cena a quattro mani. Grazie per la visione!